ciao a tutti ciao amici e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di freni a mano l'avrete visto dal titolo e dalla foto commesso di sfondo allora i freni a mano cosa intendo non quando si tira il cricchetto o quanto sto soltanto dicendo che ultimamente molte case costruttrici stanno mettendo quei quegli abomini di freni a mano a tastino cioè praticamente viene eliminata la classica leva per fare il tastino per essere più comodi per essere più elettronico non so come si chiama comunque fa schifo adesso se voi questo lo montate su una SUV che tanto sono macchine ve l'ho già detto assolutamente insignificanti e va bene mettici anche quello tanto brutto per brutto mettici ancora un po di brutto va bene posso anche capire il signore non so anziano che abbia bisogno di questo orpello questo freno a mano che schiacci il pulsantino adesso non vi sto a dire su quante macchine l'ho visto ma ce ne sono parecchie posso capire per la comodità cioè tu vivi in salita metti questo pulsantino qua su queste macchine pesanti grossi inutili ci può anche stare ma cosa serve quella fare lì su un'auto che su una sportivetta per esempio cosa serve cioè vai a togliere già che sono le macchine moderne sono strozzatissime dall'elettronica sono già inquisite nel modo più totale da questa elettronica che invasiva al 100 per cento ci va anche mettere quello cosa avete paura ho capito se faccio prima sul modello base se proprio dovete il modello base di una auto classica ci metti quello schifo lì per una persona comune ci può anche stare però sul top di gamma andate a mettere quegli affari lì io c'ho il mio amico lorenzo che ha un'auto incredibile vi ho già fatto vedere un sacco di video non vi dico che macchina è perché non voglio andare a penalizzare in questo caso le macchine c'ha una macchina straordinaria veramente con delle caratteristiche tecniche sconvolgenti una macchina veramente da paura e poi c'ha il freno a mano così cioè ma come si fa su un'auto di quel genere lì come quella di lorenzo a infilarci quel ma dov'è il gusto di guidare dov'è il gusto di guidare cioè è bello anche poter arrivare in una curva a bomba una volta di alzare un po' la quest'affare qui che lo mette dappertutto ripeto se lo mette su una giardinetta su una macchina insignificante come quelle grosse che girano che sappiamo tutti ok tanto inutile per inutile mettiamo in quella affare lì però cioè la gente chi compra una macchina sportiva perché si vuole divertire cioè non so più come dirvelo che il divertimento è una cosa retro e voi volete portare avanti a tutti i costi le vostre ideologie moderne non si deve fare così cioè non è che sempre elettronica è meglio cioè andare a aumentare elettronica in tutti i campi non è sempre una cosa positiva in alcuni campi come per esempio l'automobilismo come il divertimento il piacere di guida quello che io chiamo il piacere di guida aumentare troppo sull'elettronica cioè invasare con quest'elettronica a tutti i costi a tutti i costi a tutti i costi vai a intaccare a uccidere il piacere di guida prima cioè ma mi sembra mi sembra di vivere in un incubo giuro mi sembra di vivere in un incubo cioè ma dov'è il piacere anche soltanto il fatto di sapere di avere lì il vecchio cricchetto quello che noi in Liguria chiamo il cricchetto quello che arrivai tiravi c'è prima di una curva per oppure per adrizzare la macchina in una situazione di emergenza tutto quanto c'è sul bagnato sulla neve ma dov'è tutto questo piacere lo state uccidendo con questa tutta questa granaglia insignificante di elettronica profusione dappertutto dai su cioè non mi potete cadere così in basso ma non ce ne sono decine di modelli di auto sportive vi faccio un esempio vi faccio un esempio abbastanza particolare tanti anni fa nel 2000 mio papà comprò un CLK la prima serie il 200 compressor da 192 cavalli il CLK era un cupettone abbastanza elegante per andarti a fare un viaggio quando ancora la benzina era una cosa privilegiata ti ci facevi un viaggio potevi andare un po più sportivo in autostrada ti lancia auto quanto era una macchina però elegante e le mercedes nella fattispecie la maggior parte dei casi avevano sempre avuto quel freno a mano che toccavi di una parte sinistra in alto tiravi quel cazzo di affare poi cioè schiacciavi il pedalino e poi andavi con quel pulsante che tirava quella leva si mollava il freno a mano andava però sull'SLK che io l'ho avuto per esempio che è un'auto molto molto più sportiva con lo stesso motore il suo motore del 2000 da 192 cavalli montato su un'auto più leggera e quella lì aveva il freno a mano a cricchetto ci sta perché era un'auto e infatti quanti cricchetti ci ho fatto quanti traversi ci ho fatto grazie a quel freno a mano lì che se avessero fatto anche sull'SLK il freno a mano classico a pedalino ci siamo su questo avrebbero rovinato l'SLK invece per fortuna sull'SLK il freno a mano è rimasto quello tradizionale con il cricchetto questo era per farvi rivangarvi un ricordo bello una cosa particolare sul CLK il coupé ci stava non si poneva come auto da andarci a fare il coglionazzo in giro cioè era una macchina elegante bella una bella linea piacevole sportiva bassa a tre porte cioè una macchina bella e ci poteva stare che avesse quel cioè a me non piaceva avere perdito anche lì il cricchetto però vabbè lo accetti su una macchina così lo puoi accettare ma sull'SLK per esempio facendo il freno a mano quello e cazzo ci stava no invece no invece no adesso praticamente più si va avanti nel tempo sempre più modelli di auto adottano quel cavolo di cose elettronico schiacci il pulsantino e per sbloccarlo schiacci un pulsante ma com'è possibile cioè dov'è il divertimento io voglio divertirmi quando guido cioè io spendo 30 40 mila euro per una macchina la macchina mi deve far godere e quelle cose lì non fanno godere non fanno godere per niente cioè ci sono tante cose che si potrebbero dire oggi parlavamo dei frinamani e niente anche in questo caso qui vince il retro il passato vince perché il passato dal piacere di guida quelli nuovi non danno il piacere di guida nel modo più assoluto nel modo più assoluto con questo ragazzi chiudo il video questa è un'altra ispirazione questa mi è venuta in mente a me e niente con questo ragazzi chiudo il video ciao a tutti